Buongiorno a tutti, io sono Giulia e benvenuti al nostro programma In Forma. Sono un'istruttrice del Fanny Center, ci trovate in via Cadore 22 a Feletto e in via Pola a Udine. Insegno balla e sdella e mi trovate anche a insegnare le lezioni di danza moderna per i bimbi più piccoli. Quindi iniziamo subito con un breve stretching, quindi prendo la testa e la sposto. Ricordiamoci di abbassare la spalla. Con entrambe le mani spingo la testa verso il basso. Cambio lato. Ricordiamoci sempre di respirare, non andiamo mai in apnea e abbassiamo la spalla. E mollo. Andiamo a sbloccare le spalle. Rotazione all'indietro. Due. Tre. Quattro. Cambio giro, ruoto in avanti. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. Piego leggermente le ginocchia e allungo. Fin dove riesco, ok? Devo sentire tirare tutta questa parte qua. Torno al centro e vado dall'altro lato. Torno al centro. Cambio. Cambio. di nuovo. Molto bene. Ora, ispiro. Unisco le mani e srotolo lentamente. Scappole. Schiena. E arrivo fin dove riesco, ok? Non mi devo sforzare troppo. Fin dove sento tirare. E rimango ferma qua. Da qui piego e risalgo lentamente. Di nuovo. Inspiro. Vado verso la gamba destra. Torno al centro. E gamba sinistra. Torno al centro. Piego e risalgo lentamente. Molto bene. Ultimo esercizio di questo nostro stretching. Sono le caviglie. Rottiamo le caviglie all'esterno. E all'interno. Cambio. Esterno. E interno. Ok, come siete? Abbastanza calde? Bene, iniziamo subito con la prima coreografia, ok? Allora. Primo passo che incontriamo nella nostra coreografia. Ve lo faccio vedere un momentino di fronte. Allora. Gamba destra. Braccio sinistro. Uno. Chiudo. Mano destra. Quindi braccio destro. Gamba sinistra. Due. E di nuovo. Tre. Quattro. Ok. È una specie di slide, ok? Quindi vado prima verso destra e poi verso sinistra. Ripeteremo questo passo per quattro volte. Tre. Quattro. Slide. E slide. Quindi. Uno. Due. Tre. Quattro. Slide. E slide. Quindi questa sequenza per quattro volte. Dopodiché. Spalle. Apro e chiudo muovendo le spalle, ok? Facile questo. Poi. Una mini onda. Ok. E poi incontriamo questo passo. Gamba destra, gamba sinistra, gamba destra, gamba sinistra, gamba destra, gamba sinistra, gamba destra, gamba sinistra, gamba destra, gamba sinistra. Ultimo passo che incontriamo in questo primo step di questa coreografia, tiro sulla gamba destra e la sinistra, destra, tiro su fin dove riesco, ok? Quindi, hop, 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 molto bene, iniziamo? Pronte ragazze? 1, 2, 1, 2, 1, 2, cambio con le spalle, onda, andiamo con la gamba destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sulle gambe, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, e la prima parte è andata. Siamo subito alla seconda parte, primo pezzo che incontriamo, onda destra, onda sinistra, hop, e batto, sinistra, destra, e batto. Quindi, faremo, dopo le gambe, ok? Faremo singolo, singolo, doppio, singolo, singolo, doppio, e onda, onda, batto, onda, batto. Cammino in avanti, cammino indietro, e mi fermo sul posto. Dopodiché, dopo questa sequenza, ricominceremo esattamente da capo, ok? Quindi, 1, 2, slide, avremo questo passo qua, avremo sempre le spalle, ok? Questa volta, però, l'unica cosa che non ci sarà in questa seconda parte, sarà l'onda, perché dalle spalle andremo direttamente alla sequenza delle gambe, ok? E poi passeremo a questa. Bene, direi che siamo pronte per farla tutta. Pronte, ragazze? E, 1, 2, slide, slide. Ricordatevi, gambe e braccio opposto, eh? Spalle! 1, 2, 3, 4, 5, 6, onda. Gamba destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sulla gamba. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra. Vai con il ritornello. Singolo, singolo, doppio. Singolo, singolo, doppio. Onda. Da capo, ragazze. 1, 2, slide, slide. 1, 2, slide, slide. Vai con le spalle. 1, 2, subito la gamba, eh? Destra, sinistra, destra, sinistra. Su! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Su, bene, eh? Super! Bene, prima coreografia andata. Ora faremo la seconda coreografia, che è molto più lenta, ok? La seconda coreografia parte con 4 passi in avanti. Quindi, 1, 2, 3, 4 e 4 indietro. 1, 2, 3, 4 e di nuovo. 1, 2, 3, 4 e indietro. 1, 2, 3, 4. Punto la gamba destra, apro le braccia e faremo 1, 2, 3, 4. Cambio lato. Quindi, punto la gamba sinistra. 1, 2, 3, 4. Dopodiché, punto la punta del piede destro e faccio 1, 2, 3, 4. Ok? Altro passo che incontriamo, subito dopo questo, ve lo faccio di fronte, è 1, 2, 3, 4. Scendo e risalgo, ok? Quindi, 1, 2, 3, 4. Scendo e risalgo. Dopodiché, faccio 4 passi avanti. Quindi, 1, facendo così col braccio, ok? Quindi, 1, 2, 3, 4 e 4 indietro. 1, 2, 3, 4. E ripetiamo il tutto. Quindi, tac, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, fianco, fianco, giù e su. E di nuovo, avanti, 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 indietro, 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 indietro. Bene, stiamo pronte a fare la prima parte della coreografia. Pronte? 4 passi in avanti, 1, 2, indietro, 1, 2, avanti, 1, 2, indietro. Punto la gamba destra, 1, 2, 3, cambio e 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4 e spalla, spalla, fianco, fianco, giù e su. 4 passi in avanti, 1, 2, 3, e indietro, 1, 2, 3, da capo, 1, puntando il piede destro, ok? Cambio, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, spalla, spalla, fianco, fianco, giù e su. 4 passi in avanti, 1, 2, 3, e indietro, 1, 2, 3, super! La prima parte è andata! Bene ragazze, nella seconda parte troviamo braccio destro, braccio sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro e ancora destro, sinistro, destro, sinistro. Poi ci giriamo e facciamo 1, 2, 3, 4, ok? Dopodiché torno nella posizione di partenza e ricomincio con la prima sequenza. 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e spalla, spalla, fianco, fianco, giù e su e avanti, 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 indietro, 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 indietro. Bene, direi che possiamo farla tutta. Pronte ragazze? 1, 2, dietro, 1, 2, avanti, 1, 2, dietro. Punto il piede destro e 1, 2, 3, cambio e 1, 2, 3, cambio e 1, 2, 3, cambio e destro, sinistro, destro. Spalla, 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 fianco, fianco, giù e su, avanti, 2, 3, e torno indietro. 1, 2, 3, da capo e 1, 2, 3, cambio e 1, 2, 3, destro, sinistro, destro, sinistro, spalla, spalla, fianco, fianco, giù e su, avanti, 3, indietro. 1, 2, 3, braccio destro, sinistro, giù e su e giù e giù e giù. 1, 2, 3, cambio e braccio, 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 spalla, spalla, giù. Super! Finite le nostre coreografie e ora di fare lo stretching finale, ok? Quindi, inspiro e butto fuori l'aria. Ovviamente io spero che vi siate divertite in questa lezione. Unisco le mani e scendo. Srotolo prima le scapole e poi la schiena. Arrivo fin dove riesco, ok? Dove sento tirare tutta questa parte qua. Piego le ginocchia e risalgo lentamente. Ok, da qua. Prendo il braccio, con la mano destra prendo il braccio sinistro e lo tiro. Con la stessa mano prendo il gomito e la tiro indietro. Se fa tanto male, posso arrivare anche fino qua, ok? Non è un problema. E mollo. Cambiamo braccio. Cerco di tirarlo verso di me. Ricordiamoci sempre di respirare. Prendo il gomito. E mollo. Da qui piego le ginocchia e allungo. Piego. E cambio lato. Cambiamo lato. E di nuovo. Ok, da qui inspiro. Unisco le mani e vado verso la gamba destra. Fin dove riesco, eh? E mi ricordo sempre di respirare. Torno al centro. E gamba sinistra. Ok, torno al centro da qui. Provo ad unire lentamente le gambe. Piego le ginocchia, ok? E provo, fin dove riesco sempre, ad abbracciare le mie ginocchia. Rilassando tutta questa parte qua. Quindi non state contratte, ma rilassate tutta questa parte. Molto bene. Da qui mollo le braccia. E risalgo lentamente. Ok. Bene. Tre respiri profondi. Uno. Due. E tre. Bene ragazzi, abbiamo terminato. Io vi ricordo sempre durante le lezioni di bere. E se avete piacere andate a visitare il nostro sito www.funnycenter.it. Buona giornata e a presto! Ciao! 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 Ciao!